Cos'è la meditazione sull'acqua? In poche parole, la meditazione sull'acqua è una tecnica di meditazione che si concentra sull'acqua. Non ha bisogno di coinvolgere l'acqua fisica, ma potrebbe comportare invece la visualizzazione dell'acqua. Esistono molti tipi di meditazione sull'acqua e la maggioranza condivide gli stessi obiettivi, liberare la mente, raggiungere il rilassamento e coltivare sentimenti di pace e tranquillità. Le forme più ampiamente praticate non implicano l'acqua reale. Le forme comuni implicano la visualizzazione dell'acqua, di solito mentre si trova in una posizione comoda e in una stanza tranquilla, libera da distrazioni. Il praticante potrebbe immaginare che lui o lei gallegge in una vasta distesa di acqua calmante o che l'acqua fredda scorre sul suo corpo e la repulisce dalle impurità. Insieme a questo aspetto visivo, il meditatore potrebbe immaginare le piacevoli risultati sensazioni dell'acqua che scorre sul suo corpo. Visualizzando in questo modo, la mente diventa più libera dai pensieri dispersi e si può ottenere una profonda sensazione di rilassamento. I meditatori hanno anche la possibilità di integrare i suoni quando fanno meditazione. Includere il suono può essere semplice come suonare una registrazione di meditazione sull'acqua. Sono disponibili molte registrazioni di acqua specificamente progettate per la meditazione. Si può scegliere tra onde oceaniche, fiumi, pioggia e altri suoni d'acqua. Andare fuori e meditare vicino a una cascata o sedere vicino a una fontana d'acqua zen o all'installazione del giardino sono altri modi per portare l'esperienza del suono alla meditazione. Alcuni tipi di meditazione dell'acqua in realtà coinvolgono l'acqua. I praticanti potrebbero galleggiare sulla schiena in vasche da bagno, laghi o piscine o eseguire movimenti lenti nell'acqua. Alcune stazioni termali e resort offrono meditazioni guidate dell'acqua. La meditazione sull'acqua tende ad essere uno dei tipi di meditazione più accessibili per i principianti, perché l'acqua è universale. Tutte le persone ne hanno bisogno per vivere, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose, genere o nazionalità. In tutte le culture, l'acqua svolge un ruolo importante e spesso costituisce parte integrante delle pratiche spirituali. Inoltre, poiché l'acqua forma una grande percentuale del corpo umano, alcuni meditatori mirano a comprendere meglio i propri corpi attraverso la pratica della meditazione dell'acqua. I benefici della meditazione sull'acqua si sovrappongono ai benefici di molte altre tecniche di meditazione. La meditazione ha dimostrato di alleviare lo stress, la depressione lieve e l'ansia. Molte persone che meditano riferiscono anche un miglioramento della concentrazione mentale e sentimenti generali di benessere. Nelle meditazioni in movimento dell'acqua si possono ottenere anche benefici aerobici. Se si fa un'escursione in una posizione di meditazione pacifica come una cascata, un potenziale beneficio collaterale all'esercizio raggiunto durante il raggiungimento della destinazione.